eccoci qua per la seconda puntata di et school seconda lezione direi perché in realtà quelle che andiamo a fare in queste mezz'orette che stiamo insieme sono delle lezioni se vogliamo comunque sono dei passaggi che ritengo obbligati per entrare nel mondo del digital aspetta ancora un secondo perché pure oggi ci dovrebbero essere dei partecipanti ma questo evento è comunque accessibile anche a tutti coloro che si registreranno più avanti e che quindi vorranno iniziare il percorso anche in un secondo momento ok arrivando già qualcuno comunque a prescindere iniziamo perché abbiamo alcune cose da dire non tantissime però diciamo che per capire un po come funziona google bisogna avere una mente aperta e un po di esperienza perché se nel momento in cui cominci a guardare google non più come un motore di ricerca ma come uno strumento di business pensi di capire un pochino quello che succede su google in realtà sei lontanissimo dalla verità un po più o meno almeno vi dico quella che è stata la mia e non solo esperienza in questo senso quella anche di tanti professionisti insomma che conosco conosciuto negli anni non c'è quasi mai la possibilità di dire questa cosa funziona così sempre ci sono pochissime cose che quando le fai su google accadono sempre allo stesso modo questo perché perché google cambia in relazione a quello che è la ricerca che ha fatto l'utente perché partendo dal concetto di motore di ricerca google si è evoluto diventando un motore di risposta tanto che ad oggi moltissime delle risposte a tante query che fanno le persone online in tutte le lingue del mondo per gli argomenti più disparati vengono restituite immediatamente dal motore di ricerca facciamo l'esempio classico delle partite di calcio vuoi sapere il risultato real time della partita della tua squadra del cuore scrivi anche solo il nome della squadra se in quel momento sta giocando vedi già se vince o perde puoi vedere le formazioni le classifiche in real time e tutti gli eventi e ai likes della partita senza dover visitare alcun sito internet così accade per le canzoni così accade per i risultati di google maps che sono stati tra i primi a colorare diciamo la universal chiamata così la universal search di google adesso google si è evoluto ancora si chiama mum questa pagina che mostra tutti questi risultati mum nel senso mamma in inglese perché c'è questa pretesa di fare un po da mamma per gli utenti e quindi ha come dire la l'obbligo anche morale di dare la miglior risposta come ben sappiamo a volte questa cosa non accade non è sempre così google non risponde sempre nel migliore dei modi e questo a volte accade proprio perché nelle varie cose che google può fare sicuramente una tra queste è stata quella di mettere nella condizione di essere manipolato chi fa il nostro mestiere chi fa seo ma chi anche opera nel digital perché a volte può succedere che persone di qualsiasi tipologia che lavorano in digitale essere anche un influencer o comunque un blogger che produce un contenuto causa una reazione del motore di ricerca che diventa un caso da studiare un caso studio che dice a cavoli questo ha fatto sta cosa è successo quest'altra cosa altro esempio banale c'è una parte che è quella che viene visualizzata in alto con la foto in evidenza il titolo più grande e magari una lista puntata o altre cose su google che chiamano ufficio snippet che poi vedremo in un'altra lezione che normalmente veniva mostrato semplicemente con degli estratti della pagina che erano liste puntate o liste numerate quindi auto o fac man mano che si sta evolvendo nel momento in cui nella pagina ad esempio è citato un particolare prodotto o una particolare soluzione specifica per la risposta che abbiamo appena indotto appena inserito nella ricerca allora va estrarre proprio il titolo il nome del prodotto per esempio che noi riteniamo il migliore ce lo mostra anche se in realtà noi non l'abbiamo messo all'interno del testo con un mark diciamo meglio con un markup particolare che magari è riconosciuto da schema.org abbiamo solo scritto nel test google riesce a estrarre quello che mettiamo nel testo e farlo diventare una risposta importante per gli utenti ora questa cosa qua chiaramente nei primi tempi della sua uscita ha creato molte divisioni da chi fa da chi lavora nel digital e che soprattutto usa google come strumento perché praticamente che è successo che mostrando una risposta immediata a tutti quelli che fanno i siti che c'erano i siti con i testi delle canzoni o che ci avevano che ne sono i convertitori di valuta se robe qua si sono perse ci hanno perso la loro il loro motivo di esistenza se vogliamo e quindi purtroppo sono in estinzione qualcuno ancora resiste quelli un po diciamo che ci hanno più popolarità più a filiali più persone affezionate direi sono rimasti ancora altri diciamo che purtroppo stanno scadendo ma veniamo al nocciolo della questione ovvero google abbiamo detto è comunque un motore di ricerca a parte che poi lo chiamano di risposta o meglio ancora giorgio daverniti qualche settimana fa ha fatto un video bellissimo dove parla proprio di google come adesso un sistema fluido effettivamente ci acchiappa molto per come si è conformato ad oggi google come contenitore non è più solo la cosa che vai lì e ci cerchi un informazione ma poi prenotare un volo puoi fra un po potrei acquistare degli oggetti puoi prenotare un pernottamento quindi a e poi trovare degli annunci di lavoro ha integrato tantissime tipologie di risorse che con il giusto markup quindi micro dati e tutta una serie di cose possono essere veicolata all'interno del motore in modo tale che possano diventare maggiormente frui più facilmente fruibili dagli utenti e quest'anno diciamo dall'anno scorso e si sta concentrando molto sullo shopping quindi quasi tutto tutte le modifiche più grosse che si sono verificate sono state sull'aspetto e commerce quindi degli acquisti delle persone ma veniamo dicevo a quello che succede quando decidi entrare nel digital decidi in qualche modo di usare diversi canali uno di questi è google è quello che probabilmente conosco meglio di cui quindi vi parlerò più spesso all'interno delle lezioni e l'obiettivo è quello di farsi trovare dentro google altrimenti non avrebbe senso che tu vada a creare un contenuto specifico focalizziamo su quello che accade quando creiamo il contenuto quindi abbiamo scelto di scrivere una maxi guida su come funziona google l'argomento di oggi quindi io preparo il mio contenitore parleremo poi di quali cms scegliere qual è il migliore come realizzarlo fare in sito in html fare in sito in php si possono fare in tanti modi ma diciamo che io un iperfisso di apparire su google quando una persona cerca proprio l'argomento della lezione di oggi se io vado a cercare adesso questa cosa su google a parte che magari a breve quando verrà indicizzato questo video potrebbe uscire il video che realizzata anche se questo è un video privato facendo parte di un evento a pagamento potrebbe non essere indicizzato però diciamo che quando decido di entrare su google posso decidere di farlo facevo l'esempio del video con più metodi quindi non solo col blog o sito aziendale ma anche con un video con un tweet con un'azienda su google maps con un immagine con un prodotto e quindi decido che questa è la mia parola chiave che cosa accade nel momento in cui io pubblico il contenuto quindi io che faccio lo pubblico dico pubblico perché per esempio su wordpress c'è il pulsante pubblica ma pubblico significa che per esempio senza html ho caricato il file con tutto quello che riguarda la cattiva mela della pagina e diciamo da quel momento in poi il il contenuto diventa indicizzabile cioè una pagina pubblicata nella rete diventa indicizzabile che significa indicizzabile che può essere indicizzata quindi messa in indice da parte di google da questo momento in poi non sai mai quando cioè diciamo che poi ci sono delle tecniche per velocizzare l'indicizzazione non sai mai quando ma prima o poi accade che questa cosa venga indicizzata vedremo poi come facilitare indicizzazione come anche impedire l'indicizzazione e tutta un'altra serie di cose stanno sulle prossime lezioni da questo momento in poi diciamo che la pagina indicizzabile e quindi google va a fare la prima fase del percorso quindi la scansione passa sulla nostra pagina capisce che è indicizzabile e quindi lui la scansione la scansione tutta no soprattutto la prima volta e per questo infatti google contiene una serie di regole tra cui i metadati che servono proprio al motore di ricerca a capire immediatamente qual è il contenuto della pagina e questi dati vengono inseriti nella parte alta del codice poi vedremo sempre nelle varie lezioni queste cose ma oggi ci occupiamo di come funziona quindi diamo per scontato che noi lavoriamo che ne so con wix sistema che c'è alla fine vado dentro metto un titolo scrivo un test pubblico finita la giostra quello fa tutti in automatico non vi interessa tutta la parte tecnica ok quindi diciamo che io ho fatto sta paginetta su wix l'ho pubblicata da questo momento in poi la lascia in mano a google che cosa fa google la scansisce e poi c'è un periodo chiamato se vuoi anche sandbox in cui elabora questo contenuto e quindi comincia a vederlo più nella nella sua dimensione totale mentre inizialmente si sofferma solo sui meta poi comincia a passare primo paragrafo il secondo le immagini che ci sono se ci sono video se ci sono link che rimandano a siti esterni o altri link a pagine interne dello stesso sito comincia ad analizzare il contesto in cui è inserito quel contenuto se per esempio il sito che lo ospita a un menu top un menu laterale un menu specifico della pagina o meno ad esempio dello stesso contenuto come può essere per esempio una tabella dei contenuti una famosa table of content chiamata quelle cose che consentono di consultare uno stesso articolo questo caso piuttosto lungo in punti diversi della stessa pagina e quindi diciamo se fa un'idea di che cosa vogliamo ottenere da quel contenuto dopodiché passa alla seconda fase cioè quella dell'indicizzazione quindi indicizzabile scansione indicizzazione nella seconda fase il contenuto viene finalmente messo in indice l'indice è costituito da tutte le pagine di google che rispondono a una determinata query quindi query risultati questa viene chiamata serve e significa search engine results page quindi pagina dei risultati di ricerca e si chiama serpa su tutti i motori di ricerca quindi anche su bing su yahoo e quant'altro quello che ovviamente è nell'immaginario nel desideri nei desideri di ogni persona è quella di vedere il proprio contenuto apparire quantomeno nei primi risultati non voglio di proprio primo risultato perché poi il primo risultato è sempre una cosa un po direi quasi soggettiva cioè sono primo ma per quale parola chiave ma a sono primo se cerchi emanuele toromei e ci credo sei tu a suo primo anche se metto il codice fiscale quindi vabbè diciamo il concetto del ranking e poi affronteremo più in modo più dettagliato è c'è una parte oggettiva una parte soggettiva soprattutto quando poi e se qualcuno di voi sceglierà di fare il consulente la parte soggettiva va curata molto perché ci sono alcune tipologie di cliente che aspettano di vedersi posizionati per parole chiave che tu sconsiglieresti nel modo più assoluto ma che se non gli fai a ottenere chiaramente non ti garantiscono poi la durata e la persistenza del tuo lavoro del tuo operato i risultati generalmente parlo generalmente sono un massimo di dieci sul per ogni pagina di google ma il numero può variare in funzione della tipologia di ricerca che vado a fare per esempio se vado a fare una ricerca locale i risultati potrebbero diventare 13 perché generalmente google aggiunge tre mappe ai risultati organici ma se la ricerca per esempio è sia locale che abbinata al fatto che sto cercando ad esempio un ristorante se ci sono dei video che parlano di uno o più ristoranti di quella zona oltre alle mappe magari può succedere che ti fa vedere fino a tre video a volte anche di più diciamo tre barra cinque video poi tutte queste ricerche vengono diciamo amplificare a volte nel caso in cui ci sono delle immagini soprattutto se parliamo di siti turistici possono anche starci delle immagini e qui di solito viene fuori un carosello che mostra più di tre immagini più di 5 solito sono un set di immagini a scorrimento fino a un punto che ti dice ok guarda le tutte perché a questo punto si interessano immagini e poi proprio sulla parte di google che va a mostrare solo le immagini la terza fase è quella più importante diciamo della di tutte quelle che riguardano il come funziona google è quella del ranking ora questa è quella più classica nel senso che per ognuno di noi per ogni persona che crea un contenuto quindi in quella fase so che ieri abbiamo visto un po anche i lavori che si possono fare tra questi c'è il content creator ma diciamo il content creator lo può fare qualcuno per professione nei siti degli altri ma c'è chi lo fa sul proprio sito e diventa automaticamente un content creator perché stai facendo ovviamente delle cose che sono funzionali al tuo sito ma stai creando dei contenuti in quella fase quindi se il content creator e tu che stai creando il contenuto è ovvio che credi che la cosa fatta da te sia la migliore che ci sia nel web e quindi pretendi che questa pagina ranchi e quindi si posizioni all'interno dei risultati in un modo piuttosto buono e tornando al discorso la soggettività magari se abbiamo fatto un contenuto per come funziona google significa che una persona cercando su google come funziona google vedrà una serie di risultati tra cui il primo è quello che realizzato uno di voi purtroppo sta cosa non è sempre possibile infatti il ranking varia in base a una serie di fattori questi fattori diciamo che una volta google si sbilanciò e disse che erano circa 200 e ma caz ogni tanto ne citava qualcuno ci sono pure tantissimi brevetti di google registrati che partecipano all'elaborazione dell'algoritmo che quindi fanno parte dei vari fattori ultimamente diciamo che google poi ha ristretto ma non tanto google quanto chi parla per conto di google ha ristretto tutti questi fattori in una top 3 di quelli più importanti cioè quali sono le cose più importanti perché cioè a far sì che crea che io crei un contenuto indicizzabile sempre il discorso sito tui e wix o piattaforma free o il wordpress.com della questione al terzo livello creo il contenuto clicco su pubblica mi sono messo nella condizione di essere scansito perché indicizzabile vengo indicizzato sicuramente e il fatto di essere indicizzato poi vedremo come come si fa a capire quando una pagina indicizzata ma vi assicuro che in un modo nell'altro google indicizza il contenuto proprio se ve ne fregate cioè non vi preoccupate di fare tutta una serie di cose che riguardano proprio la search engine optimization in sé e che favoriscono questo in questa indicizzazione comunque nel massimo diciamo di due settimane la voglio dire tre il vostro contenuto apparirà nell'indice di google magari cercandolo precisamente per l'indirizzo web della pagina che avete appena creato ma questo non significa che venga posizionato tra i primi risultati e quindi il ranking rimane la questione più importante e dobbiamo fare in modo di di fare di capire prima prima di di agire come google gestisce questo ranking e oltre ad esserci tanti fattori che possono essere l'anzianità il dominio il trust quindi la l'autorevolezza del dominio la qualità del contenuto la quantità di link che riceve un determinato articolo tutta una serie di fattori sono tantissimi adesso ne vedremo solo un po google li ha ne ha sintetizzati diciamo tre e cioè qualità del contenuto quindi contenuti in sé i link che riceve il sito o la pagina in questione link in entrata quindi e per ultimo c'era rank brain che è la versione precedente dell'algoritmo di google quella diciamo prima di quello che hanno lanciato quest'anno rank brain è stato il primo esperimento di intelligenza artificiale a disposizione dei risultati di ricerca quindi diciamo un sistema un po più elaborato rispetto a quanto faceva prima un algoritmo basato solo su concetti matematici e che quindi consentiva probabilmente a chi ha fatto seo come me in tanti anni passati di manipolare i risultati della ricerca in modo più semplice e dico non a caccia lo dico veramente perché mi sono sentito privilegiato poter fare determinate cose anni fa laddove nella sua complessità era più semplice perché a volte vi faccio un esempio banale capitava che il mio risultato magari che era secondo rispetto ad altro che era primo facevo un link su questa pagina semplice link e schizzavo al primo posto dopodiché il mio competitor se ne accorgeva faceva un link pure lui e io ripassavo sotto cioè semplicemente la differenza tra un link in più rispetto ad altro poteva decidere chi stava in prima posizione mentre poi per esempio negli anni se parliamo di link che è comunque uno dei tre fattori principali per google non solo è cambiato ovvero è cominciato a contare di più la tipologia di link che arrivano sulla pagina o il contenitore che ospite il link che viene sulla nostra pagina barra sito l'ancor text il se c'è saltaito se non c'è se è un link diretto se con uno short tour tutta una serie di il testo che ci sta intorno se è in grassetto è inutile vada avanti sono tantissimi a perdere cioè arrivato diciamo negli ultimi anni a perdere di valore rispetto a quello che oggi riesce a fare mamma perché abbiamo io non solo insieme ai miei studenti alla mia community abbiamo più volte testato su contenitori nuovi di pacca dominio appena acquistato contenuto straordinariamente eccellente all'interno della pagina 0 link massimo 12 cioè 12 barra 3 link sono praticamente lo zero assoluto rispetto a fare l'in building cioè diciamo che sono stati messi solo per agevolare un po l'indicizzazione cioè il discorso che diciamo prima a fare delle attività funzionali e parliamo di siti che oggi arrancano primo risultato distanza di 2356 mesi ma già dopo poche settimane ti rendevi conto della forza che veramente può avere il contenuto ma direi anche più il contenitore quindi il contesto globale in relazione al ranking quindi questi tre che sono comunque fattori che voi troverete anche in molte guide molte pagine che riguardano proprio il come posizionarsi anche su google che è relativo a come funziona oppure come ottimizzare da un punto di vista se è una pagina e tutto il resto diciamo che comunque spesso troverete incontrerete questi fattori ad oggi devo dire che la loro importanza c'è ancora ma dipende sempre da molti fattori soprattutto dal settore merceologico su cui voi andate a lavorare se per esempio lavorate nelle news oggi per esempio parlavo con un mio cliente e parlavamo del giro di sicilia lui ha un quotidiano sicilia e il giro di sicilia adesso ha un'attenzione talmente tale sul mondo del ciclismo che non è stato parlando ovviamente solo i giornali locali ma anche le testate nazionali e lui si è posto una domanda cioè perché il mio sito che è siciliano e tra l'altro oggi sono passati anche nella mia città non ha la stessa rilevanza cioè non ha più rilevanza addirittura di un sito nazionale che magari è un generalista come il corriere della sera e magari ci ha messo la notizia al giro di sicilia così tanto per è proprio queste sono le domande a cui vi troverete a dover rispondere per gli altri per voi stessi e non so semplici da rispondere adesso non andrò approfondire sta cosa ha voluto fare un esempio altri esempi nei prodotti quindi io ho un e commerce e chiaramente creo la miglior pagina prodotto per la mia bottiglia di vetro ok crea una pagina una bottiglia di vetro ma se voi adesso prima ancora di fare la di creare la pagina andata a fare una ricerca su google e cercate bottiglia in vetro capite e nel momento in cui adesso io vi faccio prendere consapevolezza di questa cosa che la ricerca bottiglia in vetro potrebbe avere in realtà dietro di sé tantissimi intenti diversi e non è detto che siano per forza di cose intenti di acquisto potrebbero essere intenti informazionali quindi voglio sapere solo che cos'è una bottiglia di vetro che cosa ci si fa come funziona quanti formati può avere quanto dura dove la devo smaltire come la posso chiudere cosa ci posso contenere dentro la bottiglia di vetro tanti fattori quanti colori può avere perché la voglia trasparente verde ok una immensità di sfumature diverse che ruotano tutte intorno alla parola chiave e quindi adesso mettetevi nei panni di google quando deve scegliere quali risultati mostrare per una chiave come il giro di sicilia prima e per una chiave come la bottiglia in vetro poi laddove l'intento può essere veramente di qualsiasi genere se andiamo ancora più nel dettaglio e guardiamo il settore turistico se io cerco il nome di una città mettiamo che cerco roma su google ci voglio andare voglio solo sapere qualcosa su roma quanti abitanti a quanti comuni c'ha quante province c'è voglio andarci per turismo per lavoro sono amante della letteratura o della storia dell'antichità dell'archeologia mi piace roma da un punto di vista tradizionale la sua cucina la musica romana immaginate proprio quante sono le varianti che può che possono stare dietro a una ricerca come questa e anche se ci andassi per turismo 15 andassi per viaggiare ma il mio periodo di permanenza a roma è diverso che cosa mi fai vedere se io ci sto oggi andrò per starci un giorno 23 una settimana 15 giorni un mese o per stabilirmi a roma in via definitiva perché magari cambio città e quindi magari sono più interessato a quanto costano i rifiuti o non lo so altre cose se c'è l'autobus gratuito per i bambini fino a una certa età quindi tutte queste cose sono cose a cui google deve poter rispondere in uno spazio veramente ristretto e quindi immaginate quanti sono i fattori che interferiscono in questa scelta e per essere posizionati tra i primi risultati dovete sapervi fare un numero di domande che non è possibile mettere in fila uno dietro l'altro se parliamo un giorno intero quindi sono cose che normalmente si acquisiscono con il tempo quindi uno dei fattori sicuramente più importanti è quello dell'autorevolezza che a volte dipende da quanto tempo quindi tempo proprio diciamo barra anzianità noi del settore la chiamiamo così anzianità del dominio perché anche qui è da vedere l'anzianità di cosa del contenuto che ho fatto o anzianità del dominio o del sito che sta nel dominio perché magari io c'ho più livelli non è detto che c'è solo il www o il www c'ho anche blog.shop.notizie.com quello che ti pare roma punto e ogni volta che vado a creare un contenitore oppure c'è una sottocartella che magari non è un terzo livello quindi un dominio di sotto un sottodominio che si chiamava in gergo che magari tratta un argomento con più contenuti in modo più ampio e che magari impiega un pochino più tempo a ottenere la stessa autorevolezza che c'è il sito all'interno del dominio principale ma se il dominio ben trattato ci metterà un tempo più breve anche il terzo livello ok e per farvi capire le logiche con cui avviene il ranking e per chiudere questa questa mezz'oretta che siamo stati insieme alla fine di tutto questo c'è da metterci questo attributo la pazienza che è la cosa più importante che dovrete avere nel digital quello che fate oggi succederà fra tre mesi sei mesi nove mesi un anno diciotto mesi purtroppo soprattutto se parliamo di seo e usiamo google come canale il risultato di qualsiasi tipologia di attività non è immediato perché google ha bisogno di un periodo di scansione ed elaborazione questa parte sommata a questa viene rivista più volte il contenuto nell'arco del tempo viene indicizzato una volta indicizzato viene scansito più volte e questo poi lo vedremo come succede e quindi rielaborato più volte e la sua posizione all'interno di google cambierà nel tempo in funzione di quanto abbiamo fatto sì che non solo il contenuto stesso sia stato migliorato nel tempo ma anche il contesto in cui si trova quel contenuto sia migliorato nel tempo per oggi abbiamo fatto la solita mezz'ora e eventualmente ci siano delle domande approfondimenti o cose da fare le potete mettere nei commenti ed eventualmente farò delle lezioni aggiuntive che andranno a spiegare tutte quelle che sono le domande o le cose che che verranno fuori da questa breve presentazione del come funziona google ovviamente è molto più complesso di così però è chiaro che io cerco di essere piuttosto semplice proprio per chi si avvicina nel tempo grazie a te marina e sempre se hai domande non farti non fare complimenti scrivi pure e ti ringrazio ancora un abbraccio a tutti buona serata